musica 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 come sei? come sei? come sei? ho deciso di farlo a piedi e non so quanti sono ultimamente gli scherzi musica 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 ok è tutto due, sentite che scende qui bene andiamo più tardi quando arriviamo a San Diego musica 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 ーン stavolta Come si sente? Male? Male? Si Tanto male Tanto strette che l'astrofobico vuol posto Senti, come fai? Si, si Andiamole qua Questa è figo La mia domanda è come ci si arriva la madonna? Sì Ci si arriva o no? Da vero? Sì Sì Guardate qua Qui? Scusi 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 Non c'era nessuno di là Era libero Tutto qua Scusi 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 Grazie Scusi 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 frittuosa Fettiana sta dormendo sull'anno questo è meglio allora, dunque abbiamo finito il giro però abbiamo deciso di fermarci un attimino dato che il biglietto costava 9 euro esatto abbiamo detto sì, non ero però stiamo un po' questo qua si sta bene esatto e si stabilizza anche mi stabilizzo ma ci sarà un stabilizzatore per macchina con grafica e boh ciao poveri e noi ciao ciao dove siamo? siamo neri vabbè questa è una fantastica storia e ciao ah c'è anche Tatiana ciao io non voglio più scendere Tatiana mi tiene un ostaggio sopra il tetto dell'uomo e boh ci sono i controllori che passano e ci guardano a dire ancora qui sono questi siamo qui da un'ora ma ho detto il mio braccialetto è figo ci piace poco ah che botta ok continuiamo cercando di non cadere ah l'ha finito adesso aspetta la fatica mattina ai matti qui è? Matteo sta legando la staccata e la cintura dei pantaloni non c'è andiamo sei sicuro? sicuro non c'è problema non c'è problema non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è cosa hai fatto? se la gru non c'è non c'è che cosa hai fatto? sì la gru non c'è non c'è la gru non c'è non c'è un'ora non c'è non c'è ma non c'è non c'è una scala super scivolosa quella di là non c'è non c'è pittino scivola un po' non c'è non c'è non c'è non c'è come back to that motor and I'm gonna go to the city where are we? try to get it from the tables we are here yes, we are above the Duomo I was able to suffer a little more of the vertigo than you thought but it's okay, it's okay and here above, where? I would have been able to go still a little bit there's the Madunina beautiful Madunina the Dominic Miran and how is it going? it's beautiful it's small well, it's over there it's looking at us it's beautiful it's hot tonight it's hot it's cold I don't know how much it is I don't know how much it is I don't know and it's all white I just tmade it you tell me and then like we'll continue on the vlog it's cold i mean look at you how nice looking La sede della madonnina Ehi, filmami Ciao Ciao Sì Poi partiremo anche di un attorno Siamo a domenica Quanto fa adesso Non c'è un po' spostata per entrare alla cittadale La cittadale SuED Questa cuore La sede Questa cuore Questa cuore Si intregge Questa cuore un giorno vi porteremo anche all'interno quando io non la voglio scendere stiamo scendendo ciao è bello scendere che scopo è una messa a dire tu hai sfatto molto di questo è anche molto bello di cosa scendere però è molto bello ok inizio a vedere la luce forse della patta ma tu dici che vi inganna qua con scendere stiamo usciti stai meglio qua giù? stai in giù? scusate niente decisamente fermetemi conto stiamo là sopra noi la sopra stavo per cadere e spiccicarci a terra esatto anche secondo me questo ma che cavolo l'aglio soffio rase era bellissimo la tenavo io? sì secondi grazie era bellissimo ma io sono i tanti altri è vero anche nel riparo il tere è bianco il tere è bianco e boh riceviamo la macchina un attimino la proviamo a chiamare ciao oh oddio bene oh che cazzo no questo dovevo essere troccata con me ciao 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 e io mi sono bruciata sopra è stato un bel bel giro tatiana si brucia facilmente ho le gambe un po' rosse esatto come striscia però solo la faccia tutta sopra è quella che mi sembra strana cioè più che mi sono perché non ti sei mi sono accontrato ti sei distesa dritta ha capito? ma la parte qui no? c'è lì più resistente non lo so non lo so non lo so c'è ma c'è anche per vedere la rossa qua comunque se volete donare qualcosa per aiutare Tatiana c'è il link in descrizione per le devassioni possiamo comprare una crema abbronzante grazie cioè la crema abbronzante ho fatto 21.000 passi oggi aiutate non ce la fa più ciao